Medaglia dal centro va al gruppo numero 178 178 Sì, la medal Campionati del mondo 2016 Anche quest'anno la Dirty Dancing School di Agropoli onora la città ricevendo il titolo di vice campioni del mondo. I campionati mondiali 2016 si sono tenuti dal 15 al 18 settembre ad Olbia in Sardegna. Quattro giorni di grande spettacolo che hanno visto la partecipazione di oltre mille ballerini provenienti da 12 differenti nazioni. Belgio, Bielorussia, Danimarca, Estonia, Italia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Serbia, Slovacchia e Slovenia. Soddisfatti i maestri della scuola di ballo Dirty Dancing School Antonio Agnese di Biasi che si congratulano con le loro allieve. Le vincitrici ancora una volta hanno rappresentato l'Italia e nello specifico Agropoli a livello mondiale con il titolo di vice campioni del mondo. Meglio di così non poteva andare, hanno dichiarato. È dal 2002 che partecipiamo ininterrottamente a questa competizione ed ogni anno, oltre alle forti emozioni, ci sono anche tante soddisfazioni per il lavoro svolto.